Matteo, una grande prova da parte di tutta la squadra in questa prima gara casalinga della Top Spin. In questa stagione è arrivato un pareggio per 3-3 con la Poania Carrara, forse anche con qualche rammarico. Sì, è stata una partita incredibile. Arrivavamo da un pareggio che non ci andava bene perché volevamo la vittoria, dove siamo partiti forse un po' bloccati. Questa partita qua volevamo dimostrare che comunque la Top Spin Messina c'è anche quest'anno, che vogliamo lottare per il titolo e penso che giocare qua in casa ci abbia dato la forza anche per dare qualcosa in più. Da parte tua due successi, il primo molto difficile contro Puzzar, hai vinto il primo set tiratissimo, poi lui 2-7-1 avanti e lo hai rimontato davvero alla grande. Assolutamente, è stata una partita che avevo preparato, mi ero guardato un po' delle sue partite perché non è un giocatore comodo per me, con i suoi servizi comunque mi danno un po' di difficoltà, però sono entrato in campo molto concentrato, che sapevo quello che devo fare, anche se sbagliavo comunque, cercavo di fare le cose giuste e alla fine ha ripagato. Con Bobo C che invece è arrivato un rotondo 3-0, avevi davvero tanta voglia di regalare alla fine il pareggio alla Top Spin? Assolutamente, avevo tanta voglia di dare, di pareggiare comunque anche con Carrara, di riuscire a strappare un punto anche per far capire comunque che non sono imbattibili, che si possono battere, abbiamo avuto chance e diciamo l'ultima partita è stata proprio una liberazione anche per me che è stato un periodo un po' difficile ultimamente, che faticavano ad arrivare comunque vittorie. Comerita un plauso sicuramente anche Antonino Amato che non è riuscito a completare l'opera né contro Gacina né contro Puzza, ma è arrivato a un soffio dall'impresa in entrambi i casi, soprattutto nel secondo. Certamente, Antonino è stato davvero un peccato perché credo che abbia giocato molto bene, sia a livello tecnico che a livello tattico, ci è mancato davvero poco, però siamo contenti perché tutti possiamo metterli in difficoltà, quindi è buona questa cosa. Ti chiedo proprio questo, Carrara, campione in carica, si ripresentava qui con la stessa formazione dello scorso anno, la topspin invece ha cambiato molto, cosa ha detto questa gara al di là del risultato finale? Questa gara ha fatto capire che anche se siamo magari una squadra sulla carta un po' più debole, perché comunque manca lo straniero che era l'anno scorso Joao, abbiamo comunque dimostrato che possiamo farcela, che siamo comunque competitivi e che possiamo battere tutte le squadre. L'anno scorso sette sconfitte contro di loro, presentarsi qui e rischiare di vincerla, sicuramente è una grande iniezione di fiducia che nonostante il piccolo passo falso di Norbello vi fa dire siamo presenti, siamo qui. Assolutamente sì, nonostante l'inizio un po' così e quest'oggi avere davanti una squadra comunque con dei giocatori del calibro di Puzza, Argacina, Pistei e Bobocica è comunque non facile entrare e giocare bene, anche comunque dopo un pareggio che non ci è andato giù, però forse ci ha anche dato la forza di dare il massimo e qua in casa sicuramente il pubblico ci ha aiutato tantissimo. Hai giocato l'ultimo match settimana scorsa, 3-3, 3-3 anche questa volta sicuramente un sapore diverso, volevi forse anche riprenderti questa rivincita? Sì, volevo questa rivincita soprattutto per la squadra perché penso che il pareggio a Norbello, come ho detto prima, ci sta molto stretto, ma anche a livello personale mi servivano queste due vittorie per ridarmi un po' di fiducia dopo un periodo dove ho perso molte partite che non dovevo perdere, come anche quella con il Carvaglio a Norbello, però sono molto contento di essermi riscattato.